Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Raimondo Todaro dice addio a Maria De Filippi? Ecco tutti i dettagli di questo clamoroso scoop L'edizione appena trascorsa di Amici si è rivelata ricca di emozioni e, ancora una volta, abbiamo imparato a conoscere certi lati ignoti dei docenti, tra cui in particolare quelli di Raimondo Todaro Alle volte paterno e conciliante, altre più duro, non si è mai tirato indietro per i suoi ragazzi, motivandoli sempre, fino all'ultimo Ma adesso, ora che questo percorso si è temporaneamente concluso, in attesa di ritornare a settembre, gira voce che l'ex volto di Ballando si è intenzionato a non voler più far più parte del corpo docente, per la prossima edizione del Talent Show Una notizia che ha scatenato una reazione generale di sconcerto Sarà vero o si cela un'altra motivazione? Raimondo Todaro dice addio a Maria De Filippi Come sappiamo, Raimondo ha detto addio a Millie Carlucci, precedentemente, al fine di approdare come insegnante di ballo ad Amici Una grande novità in quel momento, riuscendo successivamente a conquistare il cuore dei ragazzi e a inserirsi magistralmente all'interno del corpo docente, a parte qualche scontro, in particolare, con Alessandra Celentano Ebbene, adesso, stando ad alcune indiscrezioni, sembra sia convinto nel voler salutare il pubblico di Amici, gettando Maria De Filippi in un profondo sconforto Una notizia di per sé inaspettata anche se si era già percepito qualcosa nell'aria, poco tempo fa, durante i casting delle giovani promesse Di seguito si riportino tutti i dettagli.Ecco dove lo vedremo Al momento, trattasi di voci infondate o meglio ipotesi poiché si sta tuttora cercando di delineare eventuali scenari, in vista del ritorno di Arisa ad Amici 22, come affermato da TV Blog Eh sì, la cantante approderà nuovamente come docente, dopo essersi concessa una vacanza insieme a Millie Carlucci A tal riguardo, cosa accadrà adesso tra gli insegnanti? Ci si azzarda nella creazione di alcune supposizioni, qualora Arisa si aggiungesse semplicemente, sarà premura dover equiparare in egual numero gli insegnanti di canto e di ballo Ma se fosse una sostituzione, bisognerebbe capire chi potrebbe dire addio alla propria cattedra, Anna Pettinelli ora in mondo Todaro? Difatti, in quest'ultimo periodo si è principalmente menzionato il loro nome, tenendo presente che Lorella Cucarini risulta già essere confermatissima Qualora fosse il secondo ad uscire di scena, chissà magari deciderà di fare ritorno dalla sua mentore Millie, a ballando con le stelle, come alla fine ha fatto Arisa con Maria De Filippi, seguendo la parabola del figlio Olpro di Go Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Arrivederci, ci vediamo al prossimo video